Ciao a tutti! Come sono connessi la salute del cuore e un invecchiamento sano? Ve lo spiego subito. Lo sapevi che il cuore è il centro del tuo sistema cardiovascolare ed è responsabile di tutto ciò che ci dà vita. Il tuo cuore pompa il sangue attraverso le vene e le arterie che poi lo forniscono a tutti gli organi. Questa è la chiave di un invecchiamento sano. Non devi fare molto per avere appunto un invecchiamento sano. Basta solo favorire la salute del cuore e la circolazione del sangue. Per esempio anche con un po' di esercizio fisico moderato di circa 30 minuti al giorno non guasterebbe e comunque aiuta il benessere cardiovascolare. L'altro punto da tenere in mente e non meno importante anzi è il mangiare sano ovvero aggiungi più nutrienti al tuo piatto mangiare varietà di frutta e verdura, cereali integrali e latticini a basso comunque contenuto di grassi. Questo è l'altro ingrediente essenziale che ti aiuta per un invecchiamento sano. Se sei obeso o leggermente in sovrappeso perdere peso appunto influirà molto sul tuo sistema cardiovascolare e quindi per un invecchiamento sano. Se ti è piaciuto questo video o comunque vuoi maggiori info lascio pure un commento qui sotto. Grazie ciao ciao.